Né vincitoli né vinti, tante emozioni e un solo gol per parte. Si chiude con un giusto pareggio il big match tra Lupa, Castelli e Romagna e Viterbese. Un 1-1 sancito dalle reti di due attaccanti di razza come Pippi e Lacava, che lascia invariato il divario tra la capolista e la sua unica inseguitrice. Garabella fin dalle prime battute, il primo squilla degli ospiti al quarto, quando Peronullo pesca il taglio in area di Pippi, sul quale Tassi deve deviare in angolo. La risposta della Lupa affidata a Siglari e a Icardi, ma nell'ex San Cesare al decimo, nell'ex Lupa Roma al diciottesimo, riescono a impienzierire Fadda. È il ventottesimo il giro di lancette nel quale il match cambia. Da una parte è bravo con l'Antoni a mettere in mezzo un pallone, sul quale però non riescono a intervenire i toman e Siglari. Dalla parte opposta del campo, invece, Saraniti riesce a prendere il tempo a Bailon, soffiandoli la sfera e mettendolo al centro area, dove Pippi taglia la perfezione, erudando la chiusura di Petta e mettendo alle spalle di Tassi il gol dell'ex, ma soprattutto l'1-0 per la formazione di Fabrizio Ferrazzoli. La Lupa incassa ma prova a reagire al trentaduesimo, quando Siglari non riesce a piazzare la zampada sul tentativo da fuori di Kosovan, mentre due giri di lancette più tardi l'ex Vicenza decide di mettersi in proprio, cercando un diagonale sul quale Fadda deve compiere il primo vero intervento di giornata. Nel finale l'estremo difensore giallo-blu è nuovamente chiamato in causa, quando il cross di Colantoni cambia traiettoria in aria, rischiando di beffare un attento Fadda che riesce a non farsi sorprendere e smanacciare in corner. La ripresa inizia con una lupa che cerca di prendere in mano le retini del gioco. Galluzzo si gioca anche la carta alla gava, passando dal 4-3 ad un 4-2-4 in tutto e per tutto simile a quello di Ferrazzoli. Il primo vero squillo della ripresa è però della Viterbese, con Saraniti che danza sulla linea di fondo, ma sceglie la conclusione al cross, trovando Tassi pronta ad opporsi con i piedi. Dalla parte opposta la lupa risponde con Siglari, che sul suggerimento di Colantoni ruba il tempo a Scardala, ma trova Don Mazzi a sbarare la strada al momento di cacciare praticamente a botta sicura. Il pari arriva però alla mezz'ora. Sulla verticalizzazione di Siglari la deviazione di Giannone fa impenare la sfera verso l'area di rigore. Dal Mazzi prova a proteggere l'uscita di Fadda, ma alle sue spalle sbuca la cava, brava a rubare il tempo al numero 5 di Ferrazzoli e imbucare il 1-1. Il nuovo equilibrio rischia però di rompersi appena due giri di lancette più tardi, quando sulla punizione di Barone Boldini si gira e sigla di smorsa la sfera nuovamente per la cava, che prova la zampata trovando un superativo Fadda pronta a dirgli no. Nel finale prova a riaffasciarsi la Viterbese dalle parti di Tassi, ma prima è petta di immollarsi sulla girata da pochi passi di Morini, poi sul corner che ne segue Assenzio cerca la deviazione di testa, colpendo però la sfera con un braccio e prendendosi anche il giallo del signor Sozza. È di fatto l'ultimo brido prima che la gara si esaurisca dopo 4 infruttuosi minuti di extra time. Un pari buono per la lupa che resta al comando del Gironeggi con 4 lunghezze di vantaggio, ma che può non andare di traverso neanche la Viterbese, che resta in scia e con la consapevolezza che la stagione ha ancora tanto da dire.